Buongiorno amici del canale, oggi torniamo a parlare di un argomento di cui già ci siamo occupati che è il cosiddetto codice Ratzinger. Per oggi ci sono delle novità, ci sono delle novità letterarie, ci sono delle novità, diciamo, attuali, cronachistiche e una delle novità, tra l'altro, è che c'è un nuovo ospite, ma un ospite molto importante. Intanto parto col dirvi che ovviamente parliamo con il professor Matteo Corrias, che voi state vedendo, perché con lui già abbiamo iniziato a parlare del codice Ratzinger e poi con lui, sapete, ci stiamo occupando di questioni relative alla Sardegna, più in generale al Mediterraneo, eccetera, e quindi non vado avanti nelle presentazioni. Ciao Matteo. Ciao Mauro, ciao a tutti, ben ritrovati. E poi veniamo al secondo ospite che è un ospite che il professor Corrias ha citato più volte nei video precedenti, che è il dottor Andrea Cionci e l'ha citato più volte perché è la persona che ha condotto e sta conducendo questa inchiesta sul cosiddetto codice Ratzinger. Il dottor Andrea Cionci è un storico dell'arte, si occupa di musica lirica. Diciamo che è un uomo un po' dal multiforme ingegno, come giornalista ha lavorato in Afghanistan, ha lavorato in Libano, ha partecipato a delle, diciamo così, spedizioni speciali in Kenya e sull'Himalaya, tra l'altro ha ideato un metodo educativo, il mi merito che è stato pure adottato con successo dal Ministero dell'Istruzione, ma oggi è qui in qualità di giornalista appunto che ha condotto e sta conducendo l'inchiesta sul cosiddetto codice Ratzinger, cioè su quella che adesso vi è poco conosciuta come la magna questio dei due papi o se si preferisce del papa e dell'antipapa e quindi do il benvenuto al dottor Andrea Cionci. Grazie dottor Biglino, buonasera professor Corrias e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Noi adesso stiamo vedendo delle immagini invece di vederle direttamente in video, c'è un motivo? Sì c'è un motivo dottore, io tradizionalmente riguardo all'inchiesta codice Ratzinger preferisco non farmi inquadrare, ma non perché io sia deforme come Elephant Man, ma per una questione di rispetto verso il papa, il santo padre Benedetto XVI, perché questa è una faccenda di un'importanza millenaria, io preferirei che gli ascoltatori si concentrassero sui testi, sulle parole, sulle vostre coltissime spiegazioni di questi messaggi che abbiamo individuato, più che essere distratti dalla mia faccia che non conta nulla in questa faccenda. Vorrei fare anche una piccola premessa, devo dire che lei dottor Biglino già alcuni mesi fa mi aveva gentilmente offerto di essere ospite nella sua trasmissione, un'offerta che avevo valutato attentamente, perché appunto c'era il rischio che i miei oppositori, i miei nemici che sono molto aggressivi e non entrano mai nel merito della questione, ma il tenore delle loro obiezioni è del tipo cionci ciancia, cionci è un imbecille, pazzo è un idiota, eccetera. Allora non volevo dare spazio a questi contestatori per dire, ah vedete cionci va ospite di Biglino, quello degli alieni, eccetera, eccetera. Ora sappiamo che lei non è quello degli alieni, ma è un fine e coltissimo biblista che ha dato un'interpretazione letterale della Bibbia dopo aver pubblicato 17 volumi di studi sull'argomento e ha chiaramente offerto una possibilità di interpretazione che non è quella tradizionale della Chiesa Cattolica. Ma io ho accettato apposta, apposta ho accettato questo suo invito, perché i giornalisti cattoconservatori che avrebbero dovuto dare manforte, ma non Andrea Cionci, ma al vero Papa, al Santo Padre Benedetto XVI in sede impedita, rifiutano meccanicamente di prendere anche solo in considerazione questo argomento e quindi io lo faccio apposta. Vengo in trasmissione da Biglino, tra virgolette, quello degli alieni, in modo che questo rimanga a secolare disdoro verso questi giornalisti collaborazionisti di Bergoglio, che pur dicendone peste e corna tutti i giorni, non fanno nulla per difendere il Santo Padre Benedetto XVI o quantomeno anche per difendere Papa Francesco, perché se loro lo riconoscono come Papa Francesco e il Codice Ratzinger è oggi fra i dieci libri più letti in Italia, sarebbe il loro sacrosanto dovere prendere le difese di quello che credono il Pontefice. Quindi grazie al dottor Biglino e che questa trasmissione rimanga agli atti, a vergogna di tutti coloro che ignorano questa questione millenaria. Bene, allora intanto la ringrazio e ovviamente abbiamo dal punto di vista dottrinale, come è apparso anche evidente, delle posizioni diverse, ma questo non conta perché noi faremo un discorso molto sereno, molto laico, sulla questione, sulla magna questio, da un punto di vista giuridico, canonistico, legalistico, eccetera, e filologico, e filologico. E la cosa interessante allora qual è? Dunque lei ha scritto questo libro, il Codice Ratzinger, che è stato pubblicato dalle edizioni Bio Blu, che è un libro che sta avuto e sta avendo veramente un successo editoriale importantissimo, mi fa quindi piacere parlarne, mi fa piacere presentarla e mi ricollego subito a quello che lei ha detto parlando dei suoi accusatori. E mi viene in mente che lei inizia proprio nella premessa dicendo che questo è stato un lavoro ingrato, molte notti insonni, perdita di collaborazioni, tantissimo lavoro a titolo puramente volontaristico, possibili rischi di vario genere, eppure nella vita ci sono cose che si devono fare, anche se diciamo alle volte non si vorrebbe semplicemente per non avere rimorsi di coscienza. C'è infatti appena un miliardo e 285 milioni di cattolici nel mondo che hanno diritto alla verità. Ora, quando lei parla di avversari, eccetera, non sa quanto io la capisca, non sa quanto io la capisca e quindi condivido pienamente. Mi immagino. Quello che è importante in questo libro secondo me è il fatto che intanto contiene la ricostruzione di tutta l'inchiesta che lei ha fatto con tutta la documentazione, però poi contiene anche delle ipotesi su possibili scenari futuri che sono altrettanto interessanti e contiene anche tra l'altro un'ipotesi che è ovviamente talmente originale la prima volta che leggo sul terzo segreto di Fatima. Ovviamente non voglio spoilerare nulla, quindi la gente lo vedrà, ma c'è un capitolo che ci fa capire come questa magna questio non riguardi soltanto i cattolici o meglio i credenti. Il capitolo è quello intitolato Bergoglio, un rischio per la sovranità delle nazioni. Questa questione di cui appunto con Matteo ci siamo occupati già alcune volte, nella quale adesso entriamo nel merito anche con le novità attualissime che lei ci dirà, riguarda, riguardo veramente anche i laici. Assolutamente. Ne parlo volentieri. Di fatto lei dice ci sono molti laici che ritengono la questione della non rinuncia di Benedetto XVI di interesse esclusivo dei cattolici. Questo è un grave errore di valutazione, perché il pontefice romano è una figura politica di primissimo piano. Non dimentichiamo che Giovanni Paolo II diede la spallata finale al comunismo, mentre Papa Francesco ha candidamente ammesso di lavorare per un nuovo ordine mondiale. Poi lei ancora dice che Bergoglio vince su tutto, dal punto di vista delle scienze politiche e della comunicazione, è una vera macchina di guerra, facendo però una osservazione molto interessante. Nonostante il metallico gigantismo del suo potere, questo è però di una fragilità disarmante, tanto che basterebbe un socchio per far crollare rovinosamente non solo lui stesso ma anche tutto ciò che ha prodotto per nove anni. Chiudo con un'altra brevissima citazione che riguarda questo fatto, che ciò di cui ci stiamo occupando, cioè questa situazione e quindi questa impostazione, questo piano che avrebbe il Papa Bergoglio, considerato appunto anche come antipapa, in realtà è una situazione che non è ferma nel presente e lei dice che in relazione a questo piano il fatto è che la situazione non è statica e non rimarrà tale. L'antipapa ha un'agenda ben precisa e le sue non ottimali condizioni di salute, così si dice, pare lo inducano ad accelerare la tabella di mare. Allora queste affermazioni a me piacciono moltissimo perché richiamano il fatto che io da sempre dico che la Bibbia è importante non soltanto in quanto libro di un popolo eccetera ma è importante per l'attualità perché ci aiuta a capire molte cose che riguardano noi nel presente e riguardano il futuro e lei qui fa delle ipotesi proprio anche in relazione al futuro e parlando della sovranità delle nazioni ci dice chiaramente che va ben al di là di quello che è un mero discorso dottrinale che possa essere confinato nell'ambito nell'ambito cattolico e quindi questo è importante insomma è tutto ben spiegato in questo libro ripeto pubblicato da Bioblu. Questo libro Codice Ratzinger molte persone si chiedono se Cionci sia laico o credente e questo dubbio mi gratifica moltissimo perché vuol dire che sono riuscito a mantenere un'equidistanza sull'oggettività fra laici e credenti. Quindi è un libro soprattutto politico giuridico canonico perché il Papa è una persona che ha diretta influenza su un miliardo e passa di persone e sarebbe quanto mai utile capire quali valori sta difendendo se ha il diritto di occupare quel posto eccetera e tutta un'altra serie di cose. Ok allora è proprio questo il motivo per cui siamo qui a parlarne cioè punto di vista giuridico politico legalistico canonistico eccetera quindi allora la cosa più utile non solo ma direi anche necessaria per avviare questo discorso è fare una brevissima sintesi di ciò che abbiamo già detto in anticipo col professor Corrias perché perché ovviamente ci sono quelli che hanno visto i video precedenti e che possono trovare utile ovviamente avere un riassunto per non essere costretti ad andare a rivedere tutta la questione relativa insomma all'interpretazione della declaratio di Benedetto XVI quindi utile per loro è necessario invece per chi non ha visto i video precedenti o non ha mai seguito direttamente ho letto i suoi articoli su sui su quotidiani relativi a questa vicenda e quindi direi che Matteo a questo punto ti invito visto che ne hai parlato e tu sei coinvolto in quanto latinista esperto latinista di fare una sintesi in modo che possiamo partire avendo tutte le idee chiare. sì certo lo faccio volentieri e consentitemi di precisare che questa occasione per me è particolarmente gratificante perché davvero qui si tratta di chiudere il cerchio su una faccenda che appunto come dicevi mi ha visto coinvolto dal punto di vista proprio del mio contributo tecnico linguistico alla inchiesta di Andrea Cionci e che a questo punto per me è un grande piacere poter discutere insieme ad Andrea insieme a te in questo in questo spazio. Dunque diciamo così in estrema sintesi che la questione delle dimissioni di Benedetto XVI ha iniziato ad attirare l'attenzione fin da subito fin da subito davvero fin da quando cioè illustri classicisti del rango di Luciano Canfora segnalarono la presenza nel testo latino della declaratio con cui Benedetto XVI ha rassegnato appunto le sue dimissioni nel febbraio del 2013 la presenza di numerose imprecisioni linguistiche addirittura di qualche errore piuttosto grave nell'uso della lingua latina appunto. Ora questo fatto insieme ad altri segnali chiamiamoli così legati alla condotta di Ratzinger il quale ad esempio ha sempre continuato a vestirsi di bianco con l'abito pontificio ha sempre continuato a firmarsi con la sigla del papa regnante p p p punto p punto ha sempre continuato a risiedere in Vaticano ha addirittura sempre continuato ad esercitare il magistero talvolta correggendo lo stesso Bergoglio con i suoi pronunciamenti ufficiali ebbene tutto ciò ha indotto alcuni canonisti alcuni teologi ad indagare più approfonditamente sulla vicenda delle dimissioni di Ratzinger. Ebbene ne sono emerse alcune evidenze testuali e alcune evidenze storiche di portata davvero fuori dal comune. Ora la madre di tutte le questioni è la famosa questione della munus ministeri diciamo così della differenza tra munus e ministerio perché sintetizzo la potestà pontificia è costituita da due elementi che sono collegati tra loro ma ben distinti e sono il munus che potremmo tradurre come titolo o investitura pontificia che è di origine divina secondo la dottrina cattolica e il ministerium che invece è l'esercizio pratico di quel munus di quel titolo. Ebbene secondo il canone 332 al paragrafo 2 del codice di diritto canonico perché la le dimissioni di un pontefice perché l'abdicazione più propriamente di un pontefice sia valida il papa deve rinunciare liberamente al suo munus muneri suo renunziet dice il testo. Però se noi andiamo a leggere la declaratio di Ratzinger quel testo cioè con il quale Ratzinger rassegnò le sue dimissioni leggiamo quanto segue lo cito in latino e lo traduco plena libertate declaro me ministerio episcopi rome successori sancti petri mi per manus cardinalium die undevicesimo aprilis anno duomillesimo quinto commisso renunziare e cioè in piena libertà dichiaro che io rinuncio al ministerium del vescovo di roma successore di san pietro affidatomi per mano bei cardinali il 19 aprile 2005. E questo è l'unica è l'unico passaggio diciamo così della declaratio in cui Ratzinger afferma di rinunciare a qualcosa e però quel qualcosa a cui rinuncia non è il munus come prescritto appunto dal codice di diritto canonico ma è il ministerium. C'è un altro passaggio notevole della declaratio che anche la prima è secondo me anche la più raffinata probabilmente di tutte le anfibologie di cui poi Andrea Cionci ci parlerà e che inaugura in qualche modo questo questa modalità particolare di esprimersi di Ratzinger per speculum et in enigma te mi verrebbe da dire cioè attraverso dei dei messaggi cifrati dei messaggi in codice appunto il codice Ratzinger come è stato battezzato da Andrea Cionci. Leggo il passaggio in latino e poi ne discutiamo rapidissimamente. Declaro conclave ad eligendum novum sumum pontificem abis quibus competit convocandum esse. Allora nel sito della Santa Sede questa parte del testo questo passaggio della declaratio si trova tradotto così. Dichiaro che deve essere convocato un conclave da parte di coloro a cui compete per eleggere il nuovo sumo pontefice. Ora questa traduzione che apparentemente non presenta nessuna difficoltà in realtà ne presenta come di difficoltà due in particolare una di ordine canonistico perché a convocare il conclave come è noto non è il collegio cardinalizio ma è soltanto il decano dei cardinali. Quindi qui non abis quibus competit ma abeo quo competit quindi singolare da colui al quale. C'è una questione linguistica anche e che è questa questo complemento di agente riferito a una perifrastica passiva convocandum esse non dovrebbe essere formulato in questa in questa forma cioè con ab e lablativo ma dovrebbe essere formulato con un dativo semplice. C'è però un'altra espressione verbale alla quale questo abis quibus competit può e anzi deve sulla base di quanto abbiamo appena affermato essere riferita che è eligendum. Se noi riformuliamo diciamo così la struttura sintattica del periodo ne viene fuori questa traduzione. Dichiaro che deve essere convocato un conclave per eleggere il nuovo sommo pontefice da parte di coloro ai quali compete. Cioè ciò di cui si dice che compete a qualcuno non è la convocazione del conclave ma l'elezione del nuovo papo. Detto in altre parole Ratzinger starebbe individuando all'interno del gruppo dei cardinali un sottogruppo del quale soltanto afferma che ha la facoltà la potestà e il diritto sulla base delle norme della chiesa per eleggere il nuovo sommo pontefice. Nel nostro ultimo video sulla questione del codice Ratzinger noi abbiamo presentato la delicatissima questione della mafia di San Gallo perché è emerso dalle dichiarazioni di un cardinale conclavista che si chiamava Gottfried Dunnels che abbondantemente prima dell'elezione di Bergoglio e quindi già dopo la morte di Giovanni Paolo II in realtà un manipolo di prelati ecclesiastici si riuniva nella località svizzera di San Gallo e macchinava per promuovere l'elezione del proprio candidato e quindi destrutturare diciamo così l'ordine stabilitosi della gerarchia ecclesiastica e modificarne l'assetto. Ora fin qui probabilmente niente di male si potrebbe pensare se non che secondo il dettato della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II viene combinata la scomunica all'atte sentenze appunto a chiunque faccia proprio questo cioè a chiunque macchini per stabilire e imporre un candidato alla elezione pontificia prima della riunione del conclavo il che è proprio ciò che secondo le dichiarazioni risalenti al 2016 di questo cardinale conclavista Gottfried Dunnels sarebbe avvenuto. Insomma possiamo dire per concludere questa rapida esposizione sintetica che la portata di questi fatti è tale che non può essere sottovalutata e direi che anzi è tale da inficiare definitivamente sul piano giuridico sul piano giuridico la validità delle dimissioni di Ratzinger da una parte e di conseguenza la validità delle stesse elezioni di Bergoglio ed è proprio ciò su cui diciamo così ha preso l'abbrivio anche tutta l'inchiesta di Andrea Cionci. Difatti è proprio qui che entra il lavoro di Andrea Cionci evidentemente che in questa inchiesta ha avuto una serie di intuizioni veramente una delle quali la prima è quella che Ratzinger in realtà ha operato in modo assolutamente consapevole e intenzionale per sottrarre il trono di Pietro cioè il munus a cui facevi riferimento tu a questa mafia di San Gallo e quindi ha operato in un modo veramente determinato con un obiettivo preciso. Il secondo è che la seconda intuizione di Andrea Cionci è che in realtà il Papa avrebbe deciso per questo motivo di utilizzare un codice cioè appunto il codice Ratzinger appunto un sistema di comunicazione che gli rende possibile far uscire delle notizie che non può fare cosa che non può fare in modo aperto chiaro e esplicito proprio perché si trova in sede impedita. Quindi il mettersi in sede impedita difende il munus da un lato difende il munus di Pietro dalla mafia di San Gallo e dall'altro gli consente di o comunque fa in modo che lui utilizzi un codice espressivo, un codice formale ovviamente che deve essere interpretato e viene interpretato dagli esperti e abbiamo proprio per far capire che le cose stanno diversamente da quelle che sono state invece diciamo pure platealmente divulgate. È vero Andrea Cionci? Sì dottore mi complimento per l'efficacissima sintesi e spero di essere altrettanto chiaro e semplice. Dunque la vera svolta di questa inchiesta condotta per due anni dal sottoscritto su quotidiano libero è stata nell'agosto 2021 perché per la prima volta ho avuto un'intuizione di considerare la declaratio non come un atto di rinuncia al papato come tutti noi eravamo abituati a considerarla da otto anni ma come un'altra cosa cioè come un annuncio coerentissimo e legittimo di sede impedita. La sede impedita è una situazione canonica descritta nel canone 412 e nel canone 335 in cui il papa o il vescovo è prigioniero confinato non libero di esprimersi ma resta sempre il papa resta sempre il papa. Allora l'unico scoglio diciamo che mi impediva di interpretare questa declaratio come una sede impedita nella quale effettivamente il papa non può esercitare il suo ministerium cioè il suo esercizio pratico del potere era questa frase che diceva dalle ore 20 del 28 febbraio 2013 la sede di Roma la sede di San Pietro resterà vacante accidenti vacante allora proprio vuol dire che lui voleva abdicare ma andiamo sempre per un discorso di filologia a recuperare la versione latina e vediamo che quel termine che è stato tradotto con sede vacante cioè il verbo vacet grazie alla consulenza del professor Corrias si può perfettamente tradurre e anche meglio con la seguente espressione dichiaro di rinunciare al ministerium in modo che la sede di Roma la sede di San Pietro rimanga vuota per le ore 20 del 28 febbraio e allora mi si è aperto un mondo perché perché il 28 febbraio come voi tutti ricordate Papa Benedetto prende l'elicottero e lascia la sede di Roma la sede di San Pietro e va a Castel Gandolfo quindi lui fedele a quanto aveva annunciato ha lasciato la sede vuota e non vacante come è stato tradotto questo snodo sul verbo vacet ci ha fatto capire che la declaratio non era una rinuncia al papato scritta male zoppicante con delle problematiche giuridiche insorbontabili ma era un candido annuncio una dichiarazione appunto di sede impedita in cui il Papa Benedetto non riusciva più a esercitare il suo potere perché perché era vittima di un ammutinamento interno e di uno stracismo completo perché lo volevano costringere all'abdicazione e lui ha detto ah sì volete che io mi tolgo di mezzo io mi tolgo di mezzo ma invece di abdicare mi ritiro in sede impedita e infatti infatti il canone 335 ci dà due opzioni la sede può essere lasciata in due situazioni diverse leggiamo mentre la sede romana è vacante o totalmente impedita non si modifichi nulla nel governo della chiesa universale quindi non è che siamo andati a recuperare dalla soffitta del diritto canonico qualche cavillo qualche cosa strana così no la sede apostolica può essere lasciata o vacante quando il Papa rinuncia al minus o muore o è impedita quando il Papa non può esercitare il suo ministerium e questo è un meccanismo anti usurpazione che era stato preparato trent'anni prima dal cardinale Ratzinger in accordo con Papa Giovanni Paolo II quando questa dicotomia fra munus e ministerium viene inserita nel diritto canonico prima dell'ottantatré bastava rinunciare all'ufficio papale dall'ottantatré in poi c'è questa distinzione fra munus e ministerium quindi se rinuncia al munus c'è l'abdicazione se rinuncia al ministerium c'è la sede impedita è un sistema anti usurpazione mutuato dal diritto dinastico tedesco il Furstenrecht perché ai tempi dell'usurpazione di Elisabetta prima del trono inglese quindi nel seicento i principi tedeschi erano terrorizzati da ripetersi di questo tipo di di eventi e quindi cominciano a legare la possibilità di esercitare il potere solo a un diritto dinastico inattaccabile inappuntabile in questo caso il diritto dinastico è dato dalla concessione del munus che come ha ricordato prima il professor Corrias deriva direttamente da dio quindi è dio che dà l'investitura al papa che è il successore di piedi il munus è unico quindi se il papa non è morto e non ha mollato il munus è impedito e se si convoca un conclave a papa non morto e non abdicatario si produce un antipapa il problema dov'è come annunciava lei prima dottor biglino che uscito di scena Bergoglio non è che la situazione si normalizza perché Bergoglio ha nominato più di 120 cardinali elettori e il conclave se c'è anche un solo non cardinale perché appunto un antipapa nomina dei cardinali invalidi degli anticardinali se in un conclave ci fosse un solo cardinale invalido viene fuori un altro antipapa anche se venisse eletto per dire padre pio anche se venisse eletto un super conservatore manca il munus manca l'investitura divina del papa manca l'assistenza dello spirito santo l'infallibilità papale e tutto il resto quindi questo per quanto riguarda il discorso relativo ah sì alla sede impedita alla sede impedita poi invece c'è il discorso relativo al sistema di comunicazione che Ratzinger e questa è stata la sua seconda intuizione il sistema di comunicazione che Ratzinger ha inteso utilizzare proprio perché essendo in sede impedita non può parlare liberamente certo come avete appena sentito la questione canonica non è proprio immediata non è proprio alla portata di tutti allora il santo padre impedito che cosa ha fatto nell'arco di questi ultimi nove anni ha disseminato le sue dichiarazioni le sue lettere i suoi libri le sue interviste con dei messaggi in codice Ratzinger io ho utilizzato questa espressione devo dire fortunata che ammicca chiaramente al codice da Vinci perché effettivamente si tratta di un giallo religioso incredibile con la differenza che non è un romanzo ma è tutto vero ma in effetti è veramente un codice uno stile di comunicazione che consente a un prigioniero di comunicare con l'esterno e per far capire diciamo con un esempio plastico cito spesso l'esempio di Jeremia Denton che era un pilota americano durante la guerra del Vietnam che fu catturato dai dai nord vietnamiti costretto a recitare un discorso in cui diceva che lo trattavano molto bene secondo le convenzioni Ginevra eccetera Denton si fa riprendere ripete la pappardella a menadito ma sbattendo le palpebre in codice Morse digita la parola tortura e ai servizi segreti della US Navy che non erano imbambolati come certi nostri osservatori cattoconservatori hanno capito subito che lui mentre apertamente superficialmente diceva una versione politicamente corretta sotto stava comunicando tutt'altro ora Papa Ratzinger non lo fa attraverso codici Morse numerologie e cose strane ma lo fa secondo lo stile di Gesù Cristo con i suoi accusatori questa è un'acquisizione che è arrivata abbastanza in ritardo per me ma ho scoperto che Papa Benedetto utilizza lo stesso stile di Gesù con i suoi nemici tanto che anche i suoi stessi discepoli dicevano ma il linguaggio del maestro è duro non è immediatamente comprensibile voi tutti sapete che Gesù parlava per parabole parlava per chi avesse orecchie per intendere ma meno persone sanno che lui spesso ricorreva a dei fraintendimenti iniziali o anfibologie uno uno di questi per esempio è nell'incontro con la samaritana quando c'è tutto un gioco di fraintendimento sull'acqua viva Gesù chiede alla samaritana dell'acqua viva lei pensa che sia l'acqua sorgiva ma come questo è un pozzo eccetera eccetera no è l'acqua della vita l'acqua della salvezza allo stesso modo Papa Benedetto utilizza questo tipo di anfibologie per lasciare sempre una doppia scelta voi potete scegliere la strada larga in discesa quella più facile più comprensibile oppure la strada stretta che comporta far lavorare il cervello ritornare alle fonti capire la logica del suo discorso per esempio quando lui dice ho validamente rinunciato al mio ministero pochissimi sanno che munus e ministerium si traducono in italiano con la stessa parola ministero quindi il bergogliano medio sarà tutto contento ah vedi che bello Papa Benedetto ha abdicato perché ha rinunciato al suo al suo ministero il cattolico che non si accontenta va a vedere e si chiede sì ma quale dei due ministeri il ministero munus o il ministero ministerium vado a scavare torno alla declarazione latino tac trovo che lui ha rinunciato al suo ministero ministerium che lo manda in sede impedita chiaro un altro tipo di eh di di messaggi che lui ci dà e che sono chiarissimi questi veramente alla portata di chiunque che lui da otto anni ripeteva il Papa è uno solo e non spiegava mai quale fosse dei due allora quando io ho scoperto questa cosa mi sono scandalizzato perché c'erano giornalisti molto più autorevoli di me che queste cose le sapevano e non si erano ancora fatti balenare un dubbio ecco il il codice Ratzinger nel nel libro che lei ha presentato poco fa sono elencati tutti questi messaggi che vanno dalle cose più semplici a agli enigmi più più complessi come il rompicapo della mozzetta rossa che mi ha richiesto sei mesi per l'interpretazione sia cui ha dedicato appunto una parte del libro così come lei ha spiegato bene e esemplificato bene il discorso del rapporto tra tra il sistema comunicativo di Ratzinger e il sistema comunicativo di Gesù diciamo che quindi tutte queste che lei ci ha raccontato sono eh conferme eh che poi nel libro sono ampliate relative a eh insomma alle risultati conseguiti dalla sua inchiesta però in questo momento ci sono degli elementi attuali che vale la pena di eh ricordare che sono questa affermazione straordinaria che Ratzinger ha fatto a dei sacerdoti che si sono dichiarati a lui fedeli è così? Sì precisamente molti di voi conosceranno Don Alessandro Minutella che è un teologo palermitano che dal 2016 ripete a tutto il mondo che eh benedetto è ancora il Papa perché non ha abdicato perché la sua abdicazione era invalida giuricamente giuridicamente eccetera. Intorno a Don Minutella si sono raccolti in tempi recenti altri sette sacerdoti i quali hanno mandato a Monsignor Genswein che è il segretario di Papa Benedetto una lettera in cui chiedevano un cenno diciamo eh una una chiarificazione eh Monsignor Genswein è vescovo e anche lui è impedito tanto quanto Papa Benedetto e durante una eh telefonata con un prete fratello di uno di questi sacerdoti del gruppo di Don Minutella ha tirato fuori una serie di frasi che hanno tramortito questi poveri sacerdoti questi poveri bravissimi sacerdoti perché sembravano dei mega assist alla versione Bergogliana ufficiale e non sto qui a enumerarvele ma una delle più potenti è stata questa Don Minutella e pazzo è teologicamente fuori di testa. Il Vangelo di Matteo dice per bocca di Gesù chi dà del pazzo a suo fratello sarà gettato nella genna cioè nell'inferno. Allora voi potete pensare che Monsignor Genswein non si ricordi bene il Vangelo di Matteo e che si metta a insultare e offendere dei suoi confratelli per essere gettato nella genna? Non è molto plausibile no? Allora cerchiamo di capire se c'è una seconda accezione per questa parola pazzo ma magari potrebbe essere un'accezione teologica chi lo sa? Ah ma Monsignor Genswein ha specificato infatti che Don Minutella è teologicamente fuori di testa. Teologicamente andiamo a vedere un po' e nella lettera di San Paolo ai Corinzi si legge Noi siamo pazzi per amore di Cristo ed è il tema della follia in Cristo di cui tra l'altro è uscito un libro recentissimo che mi pare si chiama I pazzi di Dio che tratta proprio di questo tema cioè la pazzia in Cristo, l'amore estremo per Gesù che conduce le persone al sacrificio di se stesse pur di testimoniare la verità pur di essere profeti. Ma siccome i sacerdoti diciamo veramente traumatizzati da queste frasi non sono stati immediatamente convinti Monsignor Genswein ha rincarato la dose quando all'università all'Umsa si è recato per la presentazione del libro di Pier Giorgio Di Fredi il matematico ateo che ha presentato un libro che lui dice scritto a quattro mani con papà benedetto ma su centocinquanta pagine di Odifreddi ci saranno almeno una decina di pagine di studio di papa benedetto quindi insomma un'operazione editoriale un po' discutibile. Comunque arriva Monsignor Genswein e dice riferisce quello che gli ha detto di dire il santo padre benedetto e dice il papa mi ha detto di salutare tutti quanti dicendo non merito questa illustre lista di ospiti e Genswein gli dice ma santo padre se io dico questo non mi crederanno e Ratzinger risponde o credete o non credete se non credete leggete o il libro di Geremia o il libro di Isaia non dico quale versetto e quale capitolo ma lì è la risposta. Allora Cionci che ormai un pochino il gusto il fiuto l'ha fatto a questo tipo di messaggi è andato a colpo sicuro nonostante siano diverse decine i capitoli che formano il libro di Geremia esiste una funzione benedetta della tecnologia dei browser che si chiama trova ho digitato una parolina magica ed ecco che cosa mi è comparso a lettere cubitali al capitolo 36 versetto 5. Quindi Geremia ordinò a Baruch io sono impedito e non posso andare nel tempio del Signore. Tra l'altro Baruch era il segretario di Geremia profeta che si ritrovava a vivere in un'epoca di apostasia in cui gli israeliti avevano interrotto l'alleanza con Dio ed è quindi una situazione assolutamente parallela e sovrapponibile al fatto che Monsignor Genswain segretario di Papa Benedetto porta questo suo messaggio per dire io sono impedito cioè più chiaro di così signori ma che ma che cosa volete? Non so se il professor Corrias vuole aggiungere qualcosa in merito al libro di Geremia. Io sottolineerei un aspetto che rischia di passare inosservato e che è questo. Io trovo davvero decisivo il fatto che Benedetto XVI richiesto di una rassicurazione da questi sacerdoti disorientati che si sono detti convinti che egli si trovi in sede impedita e che gli hanno dichiarato sottomissione. Ratzinger non si limita a sfornare l'ennesimo messaggio in codice ma esplicitamente invita al gioco enigmistico per dire così. Li invita ad una vera e propria caccia al tesoro perché come tu dicevi il riferimento ai passi di Geremia e di Isaia non è esplicito perché Ratzinger dice la risposta si trova nei libri di Geremia e di Isaia. Non dico in quale versetto, provatevelo da voi. Insomma questa a me sembra una vera e propria come dire dichiarazione di metodo nel senso che anzitutto Ratzinger rassicura il clero a lui fedele sul fatto che i suoi messaggi sono messaggi cifrati, messaggi in codice e che così è stato in tutti i suoi pronunciamenti. Quindi li rassicura anche da questo punto di vista. Guardate non spaventatevi. È quello che io ho fatto fino adesso. Cercate la risposta. Questo tra l'altro a me pare significativamente confermato dal fatto che appunto raggiunto da una richiesta di intervista da parte dello stesso dottor Cionci e addirittura dopo aver ricevuto in omaggio il volume codice Ratzinger che racchiude l'inchiesta, l'intera inchiesta in maniera ordinata. Benedetto XVI non ha mai preso le distanze dall'inchiesta stessa. Non ha mai cioè affermato alcunché sulle conclusioni dell'inchiesta. Avrebbe potuto e forse avrebbe dovuto farlo se appunto le conclusioni di Andrea Cionci fossero state o fossero ritenute da lui non plausibili. Questo non è mai avvenuto. Cioè anche i silenzi di Benedetto XVI sono eloquenti, altro che se lo sono. Noi abbiamo presentato nel nostro ultimo video sulla questione del codice Ratzinger il testo della lettera di risposta di Monsignor Genswein alla lettera con cui Andrea Cionci chiedeva un'intervista a Benedetto XVI. I toni erano assolutamente cordiali, tradivano un certo apprezzamento e tra l'altro c'era quel messaggio di cui abbiamo suggerito un'interpretazione una possibile interpretazione alternativa, non ci è proprio possibile venire incontro favorevolmente alla sua richiesta. Non è possibile, vorremmo, ma non ci è possibile. Però al di là di questo che secondo me era opportuno sottolineare, veniamo appunto ai luoghi veterotestamentari ai quali Ratzinger affida il suo messaggio e che sono stati individuati appunto con acume e con acribia davvero lodevoli da Andrea Cionci. Allora intanto direi che è opportuno rifiare il testo nella versione latina, la versione della Vulgata, che non dimentichiamolo, il concilio ecumenico Vaticano I ha ribadito essere il testo ufficiale della scrittura per la Chiesa Cattolica. In Geremia 36.5 si legge così. Et precepiti Eremias Baruch dicens, ego clausus sum, nec valeo ingredi domub domini. Traduciamo. E Geremia ammonì Baruch dicendo, io sono rinchiuso, clausus sum, però attenzione, la cei traduce il verbo, espressione verbale, clausus sum, come sono impedito. E questo tra l'altro ha consentito a Dottor Cionci di individuare il Pasqua e non riesco ad entrare nella casa del Signore. Questo appunto, come già è stato suggerito, è una dichiarazione molto interessante, molto interessante, cioè le parole ego clausus sum sembrano davvero attagliarsi, se è vera tutta la ricostruzione che della situazione benedetto XVI è stata fatta, alla sua condizione di impedimento, di impedimento canonico. Però Monsignor Genswein faceva riferimento anche a dei luoghi del profeta Isaia. E qui ci sono almeno tre luoghi che sono interessanti, sempre nell'ottica del discorso che stiamo cercando di fare. Per esempio, in Isaia 42 ai versetti 6-7 si legge così. Ego dominus vocavite in justizia, et apreendi manum tuam et servavite, et dedite in fedus populi, in lucem gentium, ut aperires oculos cecorum, et educeres de conclusione vinctum de domo carceris sedentes in tenebris. Traduzione. Io il Signore ti ho chiamato nella giustizia e ho preso la tua mano e ti ho custodito. Ti ho posto come alleanza del popolo e luce delle genti, perché tu aprissi gli occhi ai ciechi e, attenzione, facessi uscire dalla reclusione il prigioniero e conducessi fuori dal carcere coloro che sedevano nelle tempi. Non dimentichiamo che Benedetto XVI, per bocca del suo segretario, si sta rivolgendo a un gruppo di sacerdoti che lotta per la difesa di quella che si affermano essere la verità sulla situazione della Chiesa, di Papa Benedetto XVI e anche di Bergoglio. Ripeto, et educeres de conclusione vinctum de domo carceris sedentes in tenebris. Cioè, perché tu aprissi gli occhi dei ciechi e facessi uscire dalla reclusione il prigioniero e conducessi fuori dal carcere coloro che sedevano nelle tenebris. In Isaia 14.2 si legge così, domus Israel erunt capientes eos quisse ceperant, et subicent ex actores suos. Cioè, la casa di Israele farà prigionieri coloro che li avevano imprigionati e sottometteranno i loro avversari. È l'indicazione di un riscatto possibile, è l'indicazione del possibile rovesciamento della situazione. Verrà un giorno in cui le cose cambieranno nella Chiesa. Sembra veniet gradiens ad aperiendum, et non interficet usqued ad internecionem, nec deficet paniseius. Presto avanzando verrà a liberarlo e non lo prostrerà fino alla morte e a costui non mancherà il pane. Qui sembra volerli quasi rassicurare. Non mi mancherà il pane, verrà il Signore, a liberarmi, ma verrà e avverrà questa liberazione. Quindi suona davvero questo mosaico di testi e di riferimenti vetero-testamentari come un'indicazione precisa della situazione e anche una rassicurazione sulla bontà dell'operato e, come dire, un invito alla perseveranza per questi sacerdoti. Per quanto riguarda il discorso relativo a queste citazioni bibliche, in Geremia ho trovato un aspetto assolutamente peculiare. Tu hai fatto una citazione ben precisa, già prima il dottor Cionci, sul capitolo 36, quando in realtà Yahweh fa scrivere su un rotolo a Geremia delle parole di condanna verso Israele, verso Giuda, che non sta ovviamente, come spesso succedeva, rispettando le regole. Geremia le scrive poi al versetto 4, si dice Geremia chiamò Baruch e Baruch scrisse su un rotolo sotto dettatura di Geremia tutte le cose che il Signore aveva detto quest'ultimo. Quindi Geremia ammonì Baruch, o ordinò a Baruch, io sono impedito e non posso andare nel Tempio del Signore. Andrai dunque tu nel Tempio di Yahweh in un giorno di digiuno a leggere nel rotolo che hai scritto sotto la mia dittatura le parole del Signore, le leggerai al popolo e a tutti quelli di Giuda che sono venuti dalle loro città. Ecco questo termine impedito in ebraico è reso con il termine azzur che deriva dal verbo azzar che significa proprio l'essere trattenuto ed è giusta la traduzione dell'essere impedito ma non imprigionato. E com'è che siamo sicuri di questo? Ce lo dice la Bibbia stessa, perché poco più avanti cosa succede? Che Baruch legge queste parole al popolo, poi le legge ai principi, i quali principi, tutti i capi, dissero dobbiamo riferire al re tutte queste parole. Poi chiesero a Baruch, raccontaci come hai fatto a scrivere tutte queste parole. Baruch rispose, Geremia mi dettava personalmente tutte queste parole e io le scrivevo nel rotolo con l'inchiostro. I capi dissero a Baruch, va e nasconditi insieme con Geremia, nessuno sappia dove siete. Quindi Geremia non è imprigionato, ma è veramente impedito ed è nascosto in un luogo in cui nessuno sa dove lui si trova. Poi i capi si recano dal re, che era Ioachim, nell'appartamento interno, il re si fa leggere il rotolo e poi man mano lo distrugge, lo fa bruciare e alla fine ordinò a uno dei suoi figli di arrestare lo scriva Baruch e il profeta Geremia, ma Yahweh li aveva nascosti. Quindi qui, al di là della citazione diretta prima, in due passi successivi, la Bibbia ci dice che Geremia era impedito, esattamente come traduce la CEI, ma non era imprigionato e questo io lo ritengo assolutamente molto importante. Prima però mi tornava in mente che il dottor Cionci si riferiva alle parole di Genswein relativa a questo incontro con i sacerdoti. Però mi pare che qui ci sia una questione linguistica, Matteo, che ne dici che vale la pena di essere ripresa relativa alle cose che gli ha detto? Sì, è vero. Anche questo apparentemente potrebbe passare quasi inosservato. Si tratta di un dettaglio effettivamente, però osserviamo meglio l'espressione di Genswein, perché l'intervento del segretario di Benedetto XVI alla LUNSA, in occasione di questa presentazione del libro di Odi Freddi, inizia con questa frase apparentemente anodina, ma che in realtà contiene una bellissima anfibologia, cioè una di queste espressioni ambigue, passibili di doppia interpretazione, a cui Benedetto XVI ci ha abituato in questi anni. Cito il testo dell'intervento di Genswein. Dice così, prima di venire qui ho pregato con Papa Benedetto, come fa ogni sacerdote cattolico, i Vespri. Allora qui c'è un piccolo segnale linguistico che è questa interruzione del flusso sintattico creata dalla inclusione di questa, che tecnicamente è una subordinata modale, come fa ogni sacerdote cattolico, tra il predicato o pregato e il suo complemento oggetto che è i Vespri. Allora perché questa espressione è antipologica? Perché questa subordinata modale, come fa ogni sacerdote cattolico, potrebbe essere altrettanto coerentemente, altrettanto sensatamente e altrettanto correttamente dal punto di vista sintattico attribuita a o pregato i Vespri, come fa ogni sacerdote cattolico, che è assolutamente normale, comprensibile, ma potrebbe anche essere attribuita a tutta la frase reggente, cioè ho pregato i Vespri con Papa Benedetto, come fa ogni sacerdote cattolico. Ora, siccome non può essere vero che ogni sacerdote cattolico prega i Vespri in compagnia di Papa Benedetto, allora dobbiamo interrogarci sul significato di questa espressione con Papa Benedetto, che evidentemente non è un semplice complemento di compagnia, ma ha un significato evidentemente più pregnante. E qual è questo significato più pregnante? È quello di in comunione con, in unione con Papa Benedetto XVI. E questo si capisce se si tiene conto che nell'uso liturgico del cristianesimo latino, l'ufficio divino, in particolare la messa, ma tutto l'ufficio divino, è celebrato in unione con il Papa regnante, il che è espresso molto bene nella formula della preghiera eucaristica, in unione con il nostro Papa, eccetera, nome del Papa. Allora, dire che ogni sacerdote cattolico celebra l'ufficio divino in unione con Papa Benedetto, significa indirettamente affermare che Benedetto XVI è il Papa regnante. È un'affermazione di rompente. Ancora una volta abbiamo, persino in un dettaglio come questo, una conferma della situazione che fin qui stiamo cercando di tratteggiare. Volevo proprio richiamarla, Dottor Cionci, perché questo richiama anche ciò che lei aveva accennato prima, o credete o non credete, eccetera. Quindi queste affermazioni fatte dal Papa attraverso il suo segretario, però c'è dell'altro, no? Sì, dunque il sistema della sede impedita che impedisce al Papa di parlare liberamente e fa sì che lui utilizzi questo codice, che è solamente per coloro che hanno orecchie per intendere, come abbiamo visto fin qui, fa sì che, come disse Benedetto XVI nell'estate 2021, si devono separare i credenti dai non credenti. Cioè la lettura, la comprensione del codice Ratzinger è un sistema autoselettivo che screma le persone che hanno buon senso logico, intuito, capacità di analisi, fede nel Papa e fede in Dio, che riescono a capire. Perché tutti gli altri, i bergogliani o i sedevacantisti che hanno gli occhi foderati di prosciutto e non vogliono capire, non vogliono leggere perché hanno cattiva volontà, sono gli uomini di cattiva volontà, rimangono esclusi. E la fedeltà al Papa o all'antipapa è un elemento discriminante. Il fatto che la messa venga celebrata una con Papa Francesco o una con Papa Benedicto è l'elemento che separa proprio questo mar rosso, o con Benedetto o con Francesco. Ecco perché, tornando un attimo a quella telefonata di Monsignor Genswain con il padre, il fratello di padre Gebhardt, quando questo sacerdote bergogliano gli chiede, ma Papa Benedetto l'ha messa in unione con chi la celebra? Che è una domanda veramente dirimente. E sentite come risponde Monsignor Genswain, invece di dire, ah no, Papa Benedetto celebra la messa in unione con Papa Francesco. Punto, fine dei giochi, chiarissimo. Versione bergogliana, mainstream, pienamente confermata. No, sentite come risponde Monsignor Genswain. Papa Benedetto non ha mai menzionato nessun altro nome nel canone della messa. Non ha mai nominato se stesso nel canone. Un giro dialettico per non dire la cosa più ovvia e immediata. Ma questo giro è assolutamente coerente. Perché? Papa Benedetto non ha mai menzionato nessun altro nome nel canone della messa. Sì, ma rispetto al quale? Non si dice nessun altro nome rispetto a quello di Francesco? No, non è specificato. E poi dice non ha mai nominato se stesso nel canone. Ma questo perché? Perché il Papa quando celebra in unione con se stesso, quando celebra la messa, dice in unione con me tu è indegno servo. Quindi non nomina il proprio nome. E quindi capite bene che c'è un discorso anfibologico per cui il bergogliano medio penserà che non ha mai menzionato nessun altro nome rispetto a quello di Francesco e quindi non nomina il suo. Il vero cattolico che risale alle fonti e va a vedere com'è la formula liturgica del Papa capisce che questo è tutto un giro di parole per dire che Papa Benedetto celebra in unione con se stesso indegno servo. Da queste frasi si ha l'idea dell'intelligenza logica, della cultura sconfinata e della profondità spirituale di quello che sta avvenendo e di quello che ha fatto il Papa Benedetto XVI. Volevo tornare un attimo al libro di Geremia, se mi è consentito, perché qui c'è una cosa veramente divertente e che servirà anche per alleggerire un attimo la trasmissione. Perché, come ricordate, dice Papa Benedetto tramite Genswain, non ho meritato questa illustre lista di presentatori. Voi penserete a un complimento, una battuta così per mettere a proprio agio gli astanti. E invece andiamo a cercare sempre col trova nel libro di Geremia la parola presentare. E troviamo delle cose allucinanti. Verranno dalla città di Giuda presentando olocausti, sacrifici e offerte. Ma io accenderò un fuoco alle sue porte ed esso divorerà i palazzi di Gerusalemme. E ancora, vi presentate davanti a me in questo tempio e poi continuate a compiere tutti questi abomini. E dice ancora, anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, non volgerei lo sguardo verso di loro. Allontanali da me e se ne vadano. Quindi, Papa Benedetto non dice che non merita quella illustre lista di presentatori perché sono personaggi molto più degni di lui. Ma mi viene da ridere perché è veramente di un umoristico incredibile. E dice, io non li merito perché questi sono uno peggio dell'altro. E io, che sono il vero Papa, impedito, non merito di essere presentato da un matematico ateo che spaccia un libro come se l'avessimo scritto a quattro mani e io ci ho messo solamente dieci pagine. Poi c'è Monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che si è fatto ritrare nudo in un affresco omoerotico nella cattedrale di Terni e dice che la legge sull'aborto non è in discussione. E poi c'è Paolo Florester Cais, che già aveva avuto in passato dei dibattiti pubblici con il cardinale Ratzinger, che nel 2010, sentite che cosa ha il coraggio di scrivere nel suo libello La sfida oscurantista di Ratzinger. Contro lo sfondo di virile austerità di Giovanni Paolo II assumono pesantissimo rilievo le svenevoli attenzioni dell'arcigno teologo tedesco per estenuanti frivolezze estetiche, dagli elaborati e sontuosi berretti alle babbucce rosse a un segretario che sembra uscito da Beverly Hills. Vi rendete conto? Ecco cosa scriveva Paolo Florester Cais. E, concludo, Monsignor Genswain, presentando Florester Cais, disse Ed ecco qui un amico vero, Paolo Florester Cais, come dal libro di Geremia citato. Andiamo a trovare il libro di Geremia citato, la parola amico e leggiamo Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. E gli amici, ogni amico va spargendo calumnie e vicini e amici periranno. Capite? Quindi, all'interno del libro di Geremia è contenuta la verità assoluta. Concluderei, spero di non essermi dilungato troppo, con una chicca che invece riguarda il libro di Isaia. Perché nel libro di Isaia si legge esattamente questo. Rimarrà solo un piccolo resto insignificante. E il piccolo resto è esattamente quel gruppo di fedeli e di sacerdoti che si dicono fedeli a Papa Benedetto XVI. Quindi questo è ovviamente leggere l'Antico Testamento in chiave profetica e ovviamente nell'ambito appunto di questi contrasti che sono la parte più interessante, ovviamente per quanto riguarda me, dal mio punto di vista, proprio anche in relazione all'influenza che il papato ha nel mondo e che ciò che c'è scritto nella Bibbia, nel mondo, è una cosa che io vado dicendo da anni, nei confronti anche di coloro che dicono che la Bibbia ormai non conta più nulla, la Bibbia è soltanto un insieme di favole, eccetera. Quindi invece io dico che il leggere la Bibbia ci aiuta a capire il presente e in un qualche modo, per quanto sia possibile, a ipotizzare il futuro. Diciamo come potremmo chiudere questa conversazione proprio in relazione a questo aspetto laico, di quello che sta avvenendo, in relazione a un piano di un Papa o di un antipapa, a seconda di come la si veda, in relazione a quello che succede o potrebbe succedere alla sovranità delle nazioni perché appunto pare addirittura una questione di sicurezza nazionale, insomma. Sì, è esattamente così, dottore, perché poi oggi non abbiamo avuto l'occasione di indagare tutta la parte relativa a Bergoglio, perché lì è un altro abisso, che non è un abisso di luminosa chiarificazione e verità come quello del codice Ratzinger. Il codice Bergoglio lascia veramente terrorizzati per quello che si prepara e che questo antipapa sta mettendo in atto. Devo dire che questo esercito di Papa Benedetto annovera anche dei laici. Io recentemente ho pubblicato una serie di riscontri da parte di specialisti, professori, linguisti, esperti di diritto canonico, teologi, psichiatri, psicologi, e tra questi c'era uno dei riscontri più entusiastici, era quello di un filosofo, di un professore di filosofia, che si dichiarava ateo, agnostico tendente all'ateo. Quindi non è una questione solamente per credenti, è una questione rivolta a tutti coloro che amano la verità e che hanno intenzione di confrontarsi con questa straordinaria avventura intellettuale e storica, prima ancora che spirituale, e chiaramente poi i credenti sono chiamati a una scelta di campo, come nelle guerre antipapali medievali. Ma questa è una guerra finale però, è una guerra finale perché qui non abbiamo solamente un antipapa, che non è papa, ma è anche uno che ha delle intenzioni particolarissime verso il cattolicesimo e verso la politica mondiale. Il mio appello è quello rivolto a tutte le persone di buona volontà che amano la verità di leggere il libro, c'è anche la versione ebook che costa pochi euro, è stata adesso pubblicata la prima parte del libro in inglese e in spagnolo, sta per uscire in francese, c'è un gruppo Telegram che si chiama Andrea Cionci Non Prevalebunt, iscrivetevi, partecipate perché qui ne escono di incredibili giorno per giorno. Proprio di ieri il fatto che Monsignor Genswain ha regalato la papalina di Benedetto XVI a un signore, mi pare, brasiliano, accompagnandola con una lettera in cui figura lo stemma di Papa Benedetto, Papa Regnante. Nonostante Genswain avesse cambiato nel 2017 il proprio stemma per unirlo a quello di Bergoglio, adesso ha corredato la sua lettera che già era stata mandata a me l'anno scorso, come ha ricordato prima il professor Corrias, corredata dello stemma di Genswain, unito con quello di Papa Benedetto e Papa Regnante. Papa Benedetto sta utilizzando l'altoparlante, i razzi di segnalazione, spara razzi di segnalazione dal suo monastero mater ecclese e nessuno, nessuno vuole prendere in considerazione questo fatto millenario. Chiudo con una sola immagine. Quando voi vedete Benedetto XVI e il presunto Papa Francesco, in pubblico, che si abbracciano, sono affettuosi, cordiali fra di loro, voi state assistendo a un miracolo, voi state assistendo alla messa in pratica del comandamento di Cristo, ama il tuo nemico e prega per il tuo persecutore. Benedetto XVI abbraccia e stringe la mano cordialmente a Papa Francesco, al presunto Papa Francesco, perché ama il suo nemico e prega per il suo persecutore che lo ha messo in sede impedita. E questo è certificato dai capitoli del libro Ultime Conversazioni di Peter Sevald, in cui Benedetto XVI fa degli apprezzamenti su Bergoglio, ma nessuno di questi è univocamente caratterizzato da un giudizio positivo. Ma tutte queste affermazioni noi le potremmo dire anche di un dittatore come Stalin, perché potremmo dire che è un uomo dal forte carattere, che prende decisioni coraggiose, che affronta i problemi con un certo piglio, ma in tali affermazioni non c'è contenuto alcun giudizio positivo su Stalin. Quindi il fatto che Benedetto utilizzi questi arrampicamenti sugli specchi verbali per, diciamo, dare delle connotazioni su Bergoglio, ma assolutamente astenendosi dal darne giudizi positivi, conferma quello che ho detto prima, cioè che lui lo ama, gli vuol bene, prega per lui, ma non può mentire, non può dire chi è il Papa, che è un santo, che ha un alto magistero, cose simili. Quindi è la questione dei silenzi di Papa Benedetto. Io in vita mia, per fortuna, ho avuto la grazia di poter studiare la musica e mi sono reso conto di quanto le pause siano importanti e fondamentali tanto quanto le nostre. Il linguaggio di Papa Benedetto è una musica dove il non detto esprime tanto quanto il detto, tanto che proprio qualche giorno fa, mentre mi accingevo a scrivere un articolo sui silenzi di Papa Benedetto, un lettore mi ha scritto all'email dell'inchiesta, codice-ratzinger-libero.it, mandandomi un video provvidenziale di Monsignor Ghesvain, che nel 2017 diceva guardate che Papa Benedetto parla più col suo silenzio che non con le sue parole. Doom, tachet, clama. È esattamente così. Lui dice tutto anche con i silenzi, non solo con le anfibologie, non solo con i riferimenti alla scrittura, non solo con i giochi logici, ma anche e soprattutto con il non detto. E qui... Dalla dotta enigmistica biblistica, diciamo così, ai silenzi. Eh, certo, è certo. E qui consentitemi un affresco, una pennellata conclusiva. Cioè, immaginiamoci che veramente Papa Benedetto ha abdicato perché era troppo stanco per fare le scalette dell'aereo, troppo anziano, malato, poi è campato altri nove anni. Ma vabbè, immaginiamo che sia tutto vero quello che ci propina la versione mainstream bergogliana. Ma voi lo conoscete, Josef Ratzinger, no? Un uomo che, piaccia o meno, sempre stato di una signorività, di una correttezza, di un'amitezza assolute. Quindi, vi immaginate voi che un Papa abdicatario, cosa che non si vede da secoli, rimane lì, vestito di bianco, col nome pontificale, a vivere in Vaticano, a intralciare le fughe in avanti del suo successore, a fare questi giochetti, dire il Papa è uno solo e non spiega quale. Per cosa? Per gettare nel panico un miliardo e 285 milioni di fedeli? È chiaramente una situazione surreale che è possibile solamente in un caso di impedimento. Infatti, se dovessimo immaginare un Papa impedito del futuro, Leone XIV impedito nel 2056, sicuramente manterrebbe la sua veste bianca, il nome pontificale, la facoltà di impartire la benedizione apostolica, anche da una situazione di prigioni. ed è esattamente quello che fa e che vive il Santo Padre Benedetto XIV. Sì, e tra l'altro, appunto, il discorso della magna questio possiamo dire che è effettivamente magna, perché come abbiamo visto e come lei anche, tra l'altro, scrive nel suo libro, non riguarda soltanto quel miliardo e 285 milioni di cattolici, ma riguarda potenzialmente l'intera struttura del mondo, proprio in vista di un possibile nuovo ordine mondiale. Io direi che su questo possiamo chiudere. Abbiamo fornito veramente tantissime informazioni alle persone interessate e alle persone anche che non ne sapevano nulla, perché è effettivamente una questione che non può e non deve essere passata sotto silenzio. Io quindi, se siete d'accordo, chiuderei qui, salutando i nostri ascoltatori, sono altre cose da dire. Grazie infinito, dottor Biglino, grazie a professor Corrias, passerete alla storia, anche voi, come coprotagonisti, insieme al Santo Padre, di questa agnizione collettiva di un fatto di cui tratteranno per i prossimi secoli. Perfetto, quindi Matteo, se vogliamo ringraziare. Sì, io ringrazio tutti, ringrazio Andrea Cionci per la sua presenza qui, davvero preziosissima. ci terrei solo a precisare una cosa. Sì. Che commento ai nostri video precedenti, è emersa questa sorta di accusa di odiare Papa Francesco. Ora, io vorrei ribadire una volta per tutte che a me personalmente non importa assolutamente nulla di chi sia il Papa. E questa mia equidistanza dalla questione garantisce l'oggettività dello sguardo. Cioè, quello che mi affascina di questa inchiesta non sono le beghe confessionali, ma è proprio, come è stato detto più volte, la portata storica della questione e i suoi risvolti intellettuali e culturali. Ecco, questa questione va studiata, va studiata con quell'oggettività e con quel rigore di metodo che sempre bisognerebbe applicare all'osservazione di ogni fenomeno storico. E questo noi qui abbiamo fatto anche oggi. Esattamente, direi che è una chiusa ed una chiosa assolutamente condivisibile perché effettivamente quello che contava in questo nostro incontro di oggi e quindi col piacere di avere direttamente colui che ha condotto e sta conducendo l'inchiesta era proprio quello di avere e fornire il maggior numero di informazioni possibili oggettive per la riflessione personale indipendentemente da quello che sarà poi lo sviluppo di tutta la vicenda che, come abbiamo detto, appunto non riguarda soltanto una questione di fede ma va ben oltre. Quindi io vi ringrazio per la presenza, ringrazio te Matteo, ringrazio il dottor Johnci. Chissà magari avremo occasione di rincontrarci di nuovo per approfondire il tutto e quindi ringrazio anche tutti gli amici del canale che ci hanno ascoltato. Ciao a tutti. Ciao a tutti.